Bella a tutti i fornite, benvenuti e bentrovati su Leontube, eccoci in questo video per andare a fare l'incarico trova il laboratorio sotterraneo nascosto di Daigo ci viene indicato sempre questo punto qua della mappa scendiamo sotto, vediamo se è qua possiamo andare ancora sotto ed eccolo direi qua il laboratorio qua giù, è già stato aperto dobbiamo seguire quindi questa scia viola per trovarlo eccolo qua, lo abbiamo trovato l'incarico è completato, se il video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti grazie a tutti